Non c'è problema, cioè quello lì magari lo prendi in due o tre, lo sposti da una parte e è finito. E di qua non sono ancora andato quindi non lo so. Va bene. Oh, allora fermi uscita, stai chiedi spettare. Ciao. Prima, scusate la spazzatura. Chi è che viene a prendere? Vediamo la posizione. Che stradina è vendita il Kindle V? Eh, bisogna... Andiamo a pulire. Iniziamo a andare là a pulire. Uno sta qua, ma basta uno. Io ho la motosega. Io ho la motosega, andiamo, sì. Eh, ce ne vorrà un po' prima che arriva. No, è un aereo. È un aereo questo, non è... Va bene. Ma sì, dai. Se mai, Pietro, se mai mi chiami, io ce l'ho qua il telefono e lo sento. Eh, ma si vede, eh. Si vede, si vede Giorno, giorno 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 Eh, vabbè, dai Ma questo qua non ha senso Se già la strada Ma non ha senso C'è già la strada Ora, non ci può stare la strada No, ci passiamo Ci passiamo A parte questo qua Che vedo che è già tagliato Hai visto qualcosa in giro? No, tu va bene giù un agro peccaluto Adesso c'è da Adesso c'è da Adesso c'è da Il pastiglio lo togliamo E allora li tagliamo Va bene, buona giornata Ciao Ciao Buona giornata Giorno, ciao 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 Grazie Grazie